Il Venezia saluta Facundo Zabala che passerà in questa sessione di mercato di gennaio all'Olimpia a Sussioni, in Paraguay, quindi gli andalci neroverdi effettua una seconda operazione in uscita dopo l'addio di Aaron Connolly rientrato anticipatamente dal prestito con il Brighton Luca Fjordilino dovrebbe essere il terzo a salutare la compagine Lagunare, quasi fatto il suo passaggio al Cosenza che ha accelerato e a quanto pare bruciato la concorrenza della SPAL e a questo punto si attendono, oltre all'ufficialità di Matto Iaialo, altri innesti per rinforzare la squadra a disposizione di Vanoli e nella giornata di domani dovrebbero arrivare anche i comunicati ufficiali per quanto riguarda l'innesto dell'esperto playmaker o centrocampista centrale, se volete, bosniaco dell'Udinese